buonasera alle 20 e 33 sempre sul canale youtube buon appetito amici guardali qui mentre stanno mangiando un pollo affumicato un bel pollastrello affumicato perché la leggenda narra che qui in val d'inferno si facevano molti molti fuochi e quindi tutto il cibo ai tempi era un cibo affumicato allora questa sera serata a tema in onore di alfredo che è il nostro cuoco che a breve convolerà ecco qua bene allora salutiamo alfredo con un coro tutti insieme perché il collegamento si staccherà fra 30 secondi facciamo veramente un esclusiva avevamo pensato un'altra cosa è uscita questa bella canzone un po' melanconica però dai alla fine è andata bene lo stesso no adesso no e sulle note così tristi vi lasciamo tutti grazie amici arrivederci alla prossima